Applausi Non c'è anch'io Va bene, allora io che traduco Allora, la R1 va molto bene Il team Yamaha Italia guidato da personaggi che l'hanno sviluppata molto bene sulle mie indicazioni di Corsair quest'anno va all'affare della Honda Velocissima del Cade e della CPU di GSXR Corone e della Ducati di Pedis Io mi sento molto in forma sono al 100% e farò il massimo anche perchè quest'anno sono infelociti e poi invece le modiamo Bene, bravo Giovanni Applausi 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 Signori Nitro Nonni di fondo Applausi 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 Imprensione